Incidenti sul lavoro. Già nel 2008 la prefettura di Chieti con grande lungimiranza promosse una task force con forze dell'ordine, provincia, direzione provinciale del lavoro, INAIL, IMSS, ASL, organizzazioni datoriali e sindacali. L'obiettivo analizzare e contrastare un fenomeno che aveva raggiunto numeri preoccupanti. L'iniziativa ha avuto un seguito con la firma di un protocollo sulla prevenzione. Formazione e quindi responsabilizzazione ed attenzione degli stessi lavoratori, ricordato oggi il prefetto greco, hanno consentito di porre un freno, dati alla mano, al numero di incidenti ed infortuni sul lavoro. C'è ancora molto da fare, ma intanto il report di INAIL per il 2009 fa segnare un'inversione di tendenza. L'anello mancante a questo sistema era il sostegno alle famiglie di chi è vittima di un infortunio grave o, peggio, incidente mortale sul lavoro. Un sostegno che non è solo economico. L'INAIL mette a disposizione delle famiglie un fondo nell'immediato e quindi una rendita. E' il sostegno psicologico a chi è vittima di incidenti grave o alle famiglie colpite da una tragedia sul lavoro. Questa mattina, alla presenza di tutti i soggetti interessati, il prefetto di Chieti Greco e il presidente del comitato regionale di Croce Rossa italiana, Maria Teresa Letta, hanno firmato il protocollo d'intesa. Saranno volontari psicologi della Croce Rossa che gratuitamente metteranno a disposizione le loro professionalità in quelle famiglie che hanno subito un lutto o per il reinserimento sociale di quel lavoratore persona che ha subito un danno permanente. E' il terzo protocollo firmato in Abruzzo, ha ricordato la Letta, dopo quello dello scorso giugno con la provincia di Pescara e la provincia di L'Aquila, il 30 marzo 2009, pochi giorni prima del terremoto. La Letta ha quindi ricordato quando sia stato importante il lavoro degli psicologi di Croce Rossa in quei drammatici giorni, quando si è dovuto accompagnare un familiare al riconoscimento di un cadavere, prepararlo al funerale, o quando i soccorritori dovevano dare l'annuncio del ritrovamento di un parente o amico morto. Tante le storie che sono state raccontate e purtroppo vissute. Un'attività che ha avuto un durissimo banco di prova, purtroppo, e che ora almeno potrà risultare molto utile.